Ciao a tutti! Oggi è il mio compleanno! E voglio festeggiarlo con voi! Ora siamo tanti! E diventeremo ancora di più! Alcuni amici per il mio compleanno mi hanno regalato una videocamera! I prossimi mesi potrò condividere con voi tutti i video che vorrò! I situazioni interessanti ce ne saranno! Rimaniamo in contatto! A presto! Ciao ciao!